Ciao a tutti e benvenuti sul canale New Soap. Siete pronti a immergervi in un intreccio ricco di suspense e colpi di scena? Oggi vi sveleremo un episodio speciale di Terra Amara, ma state attenti, perché questo è uno spoiler. Quindi, se non vuoi scoprire cosa accade, ti consiglio di interrompere qui la visione. La scena si apre con Zuleya, visibilmente angosciata, che incalza Demir con una serie di domande sul suo comportamento oppressivo. La sua mente è in preda a un vortice di dubbi, incapace di comprendere il motivo per cui Demir sembra voler complicare le loro vite in ogni modo possibile. Con fermezza, Zuleya ribadisce di non poterlo amare, e Gli sottolinea che il divorzio potrebbe essere la soluzione più adatta per entrambi. Ma quando pronuncia questa parola, Demir la guarda sbigottito, rifiutandosi categoricamente di accettarla. Zuleya insiste che la separazione rappresenti la scelta migliore per entrambi, e nel profondo del cuore lui lo sa. Sottolinea che non ha senso illudersi riguardo a possibili cambiamenti o miracolose riconciliazioni. La reazione di Demir è di pura sorpresa, ma in quel momento irrompe anche Unkar, che si schiera al fianco di Zuleya, condividendo le sue argomentazioni. Tuttavia, Demir respinge questa prospettiva con un grido, dichiarando di essere felice così com'è. Si sente appagato nel vedere i suoi figli e sua moglie, e quindi non gli importa se Zuleya non prova amore per lui, perché l'affetto che prova è sufficiente. Ma Zuleya non è d'accordo, perché per lei quel sentimento non è abbastanza. In modo aggressivo, Demir proclama che non permetterà assolutamente la separazione, soprattutto perché non vuole essere allontanato dai figli, soprattutto da Adnan. Zuleya ribatte che non farà parte del suo destino. Così Demir, arrabbiato, se ne va, lasciando una scia di tensione nell'aria. Nel frattempo, Fekeli si avvicina a Yilmaz per chiedergli se Demir abbia già scoperto il segreto che riguarda la paternità di Adnan. Yilmaz risponde che molto probabilmente Demir non è a conoscenza, dal momento che Zuleya non glielo ha mai rivelato, e considerando le reazioni di Demir, avrebbe già agito in maniera diversa se ne fosse venuto a conoscenza. Tuttavia, Yilmaz ribadisce che ciò che Gieli preme di più è la sicurezza di Zuleya, indipendentemente da ciò che Demir sa o non sa. Fekeli cerca di tranquillizzarlo, affermando che Hunkar sta proteggendo Zuleya e che non c'è bisogno di preoccuparsi. Tuttavia, Yilmaz, nel profondo del suo cuore, si sente pentito per aver ingiustamente incolpato Hunkar. Alla fine, ha capito che Hunkar non li ha mai traditi. È profondamente dispiaciuto per aver tentato di bruciarla viva, e ora desidera riscattarsi. Ma per fare ciò, sa che dovrà dimostrare il suo cambiamento con le azioni, non solo con le parole. Demir si dedica all'organizzazione della cerimonia di circoncisione di Adnan, un evento di grande importanza nella comunità di Adana. La notizia si diffonde velocemente, suscitando interesse e curiosità tra gli abitanti del villaggio. Tuttavia, Zuleya è preoccupata per il suo piccolo Adnan e chiede a Demir di posticipare l'evento. Ritiene che il bambino sia ancora troppo giovane per affrontare una tale pratica. Hunkar si unisce a Zuleya, cercando di convincere Demir a prendere in considerazione la loro richiesta. Tuttavia, Demir è irremovibile nella sua decisione e sostiene che Adnan non è così piccolo, sostenendo che molti bambini vengono circoncisi fin dalla nascita senza problemi. Zuleya continua a ribadire che Adnan non ha ancora compiuto quattro anni e che sarebbe meglio aspettare i cinque anni. Nonostante le obiezioni, Demir rimane saldo nella sua posizione, affermando che l'abbigliamento scelto per Adnan sarà perfetto e prende il bambino tra le braccia. Il medico che accompagna Demir cerca di rassicurare Zuleya, sostenendo di aver già eseguito la circoncisione su bambini della stessa età senza problemi. Ma Zuleya continua a insistere sul fatto che non vuole che Adnan sia sottoposto a una simile procedura così giovane. Demir ignora le obiezioni e fissa l'appuntamento con il medico per le 17. Nel frattempo, Chetín si dirige verso casa a Kaia per informare tutti dell'evento imminente. Yilmaz, venuto a conoscenza della cerimonia, ne è profondamente turbato. La sua mente è piena di dubbi e preoccupazioni. Fekeli cerca di seguirlo, ma Mushgan lo blocca, affermando che non riuscirà a fermare Yilmaz quando si tratta di proteggere Zuleya, l'amore della sua vita. Nel frattempo, Hunkar si diverte a giocare con Adnan, cercando di distogliere la sua mente dalle tensioni che permiano l'aria. Zuleya si avvicina, osservando il gioco con un'ombra di preoccupazione sul volto. Commenta che non ritiene una buona idea circoncidere Adnan così giovane, cercando di far comprendere la sua angoscia a Hunkar. Hunkar chiede a Zuleya di preparare Adnan per la cerimonia, cercando di infondere un senso di normalità in mezzo a tutto questo caos. Zuleya ascolta attentamente, ma nel profondo del suo cuore sa che questa cerimonia potrebbe portare a conseguenze imprevedibili. Commenta che ciò che teme di più è che Yilmaz scopra ciò che sta accadendo, poiché non sa cosa potrebbe fare quando è spinto all'angolo. Immediatamente dopo, come se le sue parole fossero state un presagio, Yilmaz fa irruzione nella villa armato, il suo volto esprime un mix di rabbia e preoccupazione. Zuleya, vedendolo arrivare, si alza di scatto, sorpresa e preoccupata per ciò che potrebbe accadere. Cerca di mantenere la calma e chiede a Yilmaz di calmarsi, ma Demir, immerso nei suoi impegni organizzativi, continua a ignorarlo. Yilmaz insiste nel chiedere informazioni su ciò che sta per accadere, ma Demir, concentrato sul suo telefono e impegnato in conversazioni, lo ignora. Il tono di Yilmaz si alza, la frustrazione e l'ansia lo stanno sopraffando. Zuleya, con voce tremante, cerca di intercedere, chiedendo a Yilmaz di non perdere la calma, di trovare una soluzione pacifica. Ma Demir, nel suo atteggiamento di sfida, riattacca il telefono e si avvicina ad Yilmaz, ancora più arrabbiato di prima. Nel frattempo, nella stanza adiacente, Adnan, inconsapevole di ciò che sta accadendo nel mondo degli adulti, si diverte a giocare con un giocattolo che ha trovato, che in realtà è una pistola. Yilmaz dice a Demir che non può prendere decisioni per suo figlio, che non ha il diritto di decidere per Adnan. Demir, con uno sguardo beffardo, risponde che Adnan non è suo figlio, mostrandogli il certificato di nascita come una prova del suo punto di vista. Zuleya interviene con voce tremante, chiedendo loro di calmarsi, ma i due uomini continuano a discutere con rabbia e determinazione su chi sia il vero padre di Adnan. Le loro voci si fanno sempre più forti, riempiendo la stanza di tensione palpabile. Yilmaz, con gli occhi che trasmettono una mescolanza di dolore e rabbia, dice a Demir che se gli darà suo figlio, se ne andrà per sempre, tagliando ogni legame che li unisce. Demir, con un sorriso sprezzante, accetta la sfida e lo incoraggia a portare via Adnan se ha il coraggio di farlo. Yilmaz, preso dalla disperazione e dall'impotenza, estrae una pistola e la punta contro Demir, dichiarando che è disposto a ucciderlo pur di riavere suo figlio. Ma il silenzio verrà interrotto da uno sparo assordante. Zuleyya e Unkar, attratte dal rimbombo, corrono verso la stanza, guidate dall'istinto di proteggere ciò che più amano. Il loro cuore batte furiosamente, le gambe tremano mentre si avvicinano alla scena. Quando finalmente entrano nella stanza, rimangono letteralmente sconvolte. Un'esplosione di terrore e angoscia si dipinge sui loro volti mentre si rendono conto di ciò che è appena successo. Il piccolo Adnan, il fulcro delle loro vite, giace a terra gravemente ferito da un proiettile partito accidentalmente. Il silenzio si fa assordante, rotto solo dai singhiozzi disperati di Zuleyya e dalle lacrime silenziose che solcano il viso di Ankar. Se desiderate scoprire cosa riserva il destino per Adnan e come questa tragica vicenda si svilupperà, non dimenticate di seguire il prossimo video. Continuate a seguirci, lasciando i vostri commenti e suggerimenti, perché la vostra partecipazione rende possibile la creazione di contenuti che vi appassionano. Grazie per averci accompagnato in questa avventura emozionante e vi aspettiamo al prossimo appuntamento.